Cosa pensate di Mattia Desciglio, terzo di destra nella difesa a tre? Proviamo a farci un po' l'abitudine. Allegri, nel post-partita di Juventus Young Boys, nella conferenza stampa all'Allianz Stadium, dopo il 3-0 con tripletta di Dybala, ha detto esplicitamente che Desciglio, nel suo futuro, potrà tranquillamente svolgere questo ruolo alla Barzagli, cioè più che terzino destro, difensore, laterale, destro, bloccato, fermo, a fare praticamente il terzo centrale in una difesa a tre. Lo può fare, per chi ha detto Allegri ha il fisico, è alto, quindi sulle palle alte ci arriva, è molto bravo tecnicamente e, sinceramente, concordo su questo, sa fare molto bene la fase difensiva. Desciglio è uno dei giocatori più bistrattati e, secondo me, sotto certi aspetti, anche sottovalutati della Juventus da parte della tifoseria. Non sto qui a dire che è un fenomeno, ma è molto, molto bravo nelle cose in cui è bravo. Cioè, sono limitate, è limitato il suo bagaglio tecnico, perché quando si spinge oltre la metà campo non riesce ad essere al livello degli altri giocatori della Juventus. Non ha la tecnica per giocare in quel ruolo che oggi, nel calcio di oggi, veramente richiede grandissima qualità come quella che ha giocato Cancelo. Però in fase difensiva è veramente molto, molto bravo. È quasi insuperabile in certe situazioni, al netto di avversari più veloci di lui, ma questo vale anche per Barzagli e lo abbiamo visto purtroppo di recente in alcune occasioni. Quindi, detto questo, le caratteristiche Desciglio probabilmente ce le ha per trasformarsi, tra virgolette, in un difensore centrale. D'altra parte, un insider come Luca Momblano di Juventus, che è stato il primo a parlarci di Cristiano Ronaldo alla Juventus questo scorso 28 giugno, ha scritto esplicitamente ieri che Allegri ha provato insistentemente in allenamento la difesa a tre composta da Desciglio, Bonucci e Chiellini. Quindi Desciglio nuovo Barzagli, in un momento in cui Barzagli è utile alla causa bianconera, ma a targhe alterne, a sprazzi. Una partita ogni tre o quattro più di tanto non potrà fare, visto che ha 37-38 anni. Dimostra molto meno, in alcune situazioni ha fatto due partite quest'anno, tutte e due eccellenti, uscito anche tra gli applausi e la standing ovation dell'Allianz Stadium, che non è poco, però comunque non possiamo immaginare un Barzagli titolare tutte le partite. Probabilmente neanche lo vorremmo vedere, perché stiamo parlando di difesa a tre, stiamo parlando di un argomento molto dibattuto, così come è controverso l'argomento Desciglio titolare nella Juventus, che però ci sta dando delle garanzie. Abbiamo giocato due volte in questa stagione con la difesa a tre. Juventus-Bologna 2-0, che a detta di tutti è stata la miglior partita stagionale della Juventus e forse una delle migliori in tutto il 2018, e Juventus-Young Boys 3-0, che è stata a detta di tutti la miglior prestazione in Champions da tantissimo tempo. Quindi tutte e due con la difesa a tre. Possiamo tranquillamente dire che di fronte avevamo il Bologna e lo Young Boys, però non possiamo negare come la squadra sia stata più in grado di occupare gli spazi, non solo della difesa, ma soprattutto del centrocampo e dell'attacco, per una questione ovviamente di equilibri e di caratteristiche dei giocatori. Io direi soprattutto per una questione legata agli esterni. Abbiamo visto un Alexandro contro lo Young Boys in proiezione talmente offensiva da risultare una vera e propria ala, pur dovendo in realtà fare il ruolo di terzino più basso lui che quadrato dall'altra parte, perché quadrato dietro aveva barzagli, mentre Alexandro non aveva dietro Benatia che doveva stare più accentrato. Come ben sappiamo nel 3-4-1-2 proposto da Allegri contro il Young Boys, o 3-5-2 come lo volete chiamare, in realtà partiamo sempre da una difesa a 4 in fase di non possesso, quindi è un modulo mobile che poi si trasforma in un 4-4-2 in alcune situazioni. Quindi Alexandro, pur dovendo stare molto basso, in realtà è stato molto alto e questo è un valore aggiunto di questo modulo secondo me, perché toglie ai terzini un pochino di compiti difensivi. Ora, da qui a immaginare di punto in bianco De Sciglio, che tra l'altro ha appena recuperato, pare sia recuperato per Udine titolare in questo ruolo qui, direi che ce ne passa. Dobbiamo farci l'abitudine evidentemente, però iniziamo a capire come la pensiamo, qual è l'opinione su questa questione ed è per questo che ve ne parlo, per darvi l'opportunità di parlarne qui sotto nei commenti. Come sempre in maniera molto intelligente come fate e mi fa molto piacere tra l'altro il movimento che si sta creando su questo canale, grazie a voi che sempre affrontate le questioni, ripeto, con grande intelligenza e ci confrontiamo molto serenamente. Io dal mio punto di vista penso che sia un'opportunità da tenere in conto per la Juventus, non dobbiamo buttare via nulla in sostanza. Qualsiasi giocatore che può rendersi utile in una maniera bisogna assolutamente consentirglielo, perché dobbiamo utilizzare al meglio tutti i giocatori che abbiamo. Non so, sinceramente ho qualche dubbio sull'ipotesi di trasformare questa alternativa nella principale, perché ho in mente che se Allegri sta provando De Sciglio terzo di difesa 3 è perché vuole tornare ad adottare la difesa 3 in pianta stabile. Questo non so quanto può essere produttivo per la Juventus. Ho appena detto che con la difesa 3 abbiamo fatto due ottime partite, ma non so quanto l'esperimento sia ripetibile sempre. 3. Dobbiamo secondo me distinguere da partita a partita come abbiamo fatto fino adesso, ma credo che alla fine Allegri abbia sicuramente questa intelligenza di capire che si sta semplicemente creando un salvagente, se volete, rispetto ad ipotesi di carenze a centrocampo. Noi in questo momento abbiamo perso di nuovo Chiedira e guarda caso all'indomani del nuovo infortunio di Chiedira è venuta fuori questa ipotesi di De Sciglio provato subito come difesa nella difesa 3. Mi fa capire questo che Allegri ha capito che per ovviare alla disponibilità di solo quattro centrocampisti per tre posti dovrà invece togliere un posto nella formazione titolare. Con la difesa 3 i centrocampisti necessari diventano due. Lo aveva detto anche prima dello Young Boys, aveva detto il centrocampo dipende se decido di giocare con due mediani e tre difensori o con due difensori e tre mediani. Nella sua testa, nella testa di Allegri, c'è questo. Nella zona centrale del campo bisogna difendere almeno in cinque, più i due terzini. Di conseguenza o c'è difesa 3 e centrocampo a 2 o c'è centrocampo a 3 e difesa a 2. Quindi l'esperimento di Sciglio in realtà non va letto tanto in chiave difesa quanto in chiave centrocampo. Per poter utilizzare meglio i centrocampisti disponibili che in questo momento sono pochi perché cinque ne abbiamo e uno è fuori perché Chiedira è infortunato ed evitare quindi di avere un sovraccarico, di non avere a disposizione sufficienti giocatori per tutti i ruoli. Questa è l'idea che mi sono fatto. Ovviamente è un dibattito ancora acerbo perché dobbiamo capire come andranno le cose, dobbiamo capire quale sarà la formazione di Udine e probabilmente mentre state guardando questo video, avrei dovuto precisarlo prima forse, ha già parlato Allegri nella conferenza stampa di oggi alle 12 pre-Udinese Juventus e magari ha già detto che domani Deciglio parte titolare nella difesa 3 e quindi eventualmente ci aggiorniamo domani su questa questione per il prepartito di Udinese Juventus. Fatto sta che è un'ipotesi che potremmo vedere di frequente nel prossimo futuro. Ditemi come la pensate, ci vediamo presto e sempre Forza Juve!